Ebbene sì, il video vi è piaciuto e quindi ci siamo Siamo qua ragazzi con un altro video e a questo punto un'altra di queste batterie portatili Perché, come vi avevo promesso, andremo a stampare 3D in realtà non nel bosco Perché volevo andare nel bosco con il tavolino in mezzo alla neve Sarebbe stato molto bello, ma per tutta una serie di incastri, poi con le vacanze di Natale Tutte cose non avrei avuto il tempo e quindi avrei dovuto rimandare il video all'infinito E per non rimandare all'infinito stamperemo comunque in 3D in mobilità Ma direi di cominciare ad unboxare questi prodotti di EcoFlow Contenuto, batterie agli ioni di litio, c'è scritto sul pacco Peso 10.67 kg Ragazzi, nel video scorso c'è qualcuno che si è stupito che una batteria enorme possa costare un po' Ma, cioè, perché pensate che una Tesla costi più di una macchina non elettrica? Le batterie a litio costano, come materia prima, proprio un botto Già mi state conquistando Bellezza Ma una bellezza che a quanto ho visto, per quanto mi sono spoilerato Vedremo ripresa molto anche dal prodotto stesso Non solo dal packaging Perché questo EcoFlow dovrebbe essere super elegante E insomma un oggetto bello che vuoi avere nella tua macchina Allora, mazza quanto pesa Bello però! Doppia maniglia, tanta roba! Tanto, se voglio portare la valigetta me lo porto comunque così Che figata! Ok, allora Sensibili all'ambiente Tutto il prodotto è pitturato con cose senza spray Apprezzo la motivazione per darvi una pellicola da spellicolare Sapete cosa? Incisore laser e mi ci incido il logo di Overvolt qua Allora, questo è EcoFlow Mini Perché poi hanno tutta la linea di prodotti ovviamente Guarda come posso girarlo di 90 gradi Abbiamo due bocchette per la ventilazione Sarà ventilazione attiva sicuramente Ci saranno ventole che girano nel momento in cui tiriamo magari oltre il kilowatt E nel momento in cui lo ricarichiamo Perché la ricarica scalda molto le celle a litio proprio Anche da quest'altro lato Le due ventole Ovviamente da un lato l'aria entrerà Dall'altro lato l'aria uscirà Lato frontale Troviamo un reset del IoT Internet of Things Wi-Fi Ma è connessa! Quindi avremmo tipo un'applicazione, un qualcosa, non lo so USB Fast Charge Power Delivery 100W Questa qua è tanta roba per caricarli in MacBook Pro E il pulsante di accensione Dalla parte opposta invece Come ogni buona batteria che si rispetti Abbiamo due jack Stile trasformatore Una presa accendisigari a 12V da macchina Con annesso pulsantino per accendere e spegnere a 12V Pulsantino qua per accendere e spegnere la corrente alternata a 230V O quel che sarà E in più qua su Raga Non me l'ero spoilerato così tanto Non me l'ero spoilerato al punto di scoprire Che abbiamo un carica lipo Abbiamo l'XT60 per le batterie a litio dei droni Direttamente E qua c'è il... Ah no, non è un fusibile Abbiamo un breaker invece di un fusibile No, mi sta piacendo un sacco il fatto che abbia un breaker e non un fusibile Che cos'è un breaker? Essenzialmente è l'equivalente del magneto termico che abbiamo in casa Quello che comunemente chiamiamo il salva vita Quello che scatta insomma non se accendiamo la lavastoviglie e il phon contemporaneamente per sbaglio Ma se c'è un grosso carico che sta tirando troppa troppa corrente E rischierebbe di proprio bruciare i cavi nelle canaline Mi è successo quando usavo la saldatrice a elettrodi Che non aveva condensatori E che quindi tirava proprio l'impulso direttamente dalla rete A ogni saldatura mi saltava la casa Non è stato divertente Vabbè, insomma praticamente la differenza tra un fusibile e un breaker È che il breaker lo rimetti dentro e rifunziona Come il salva vita di casa Lui scatta aprendo il circuito e proteggendo da sovraccarichi Ma dopo non devi svitare, buttare via il fusibile, comprare un altro fusibile e sostituirlo Ma basta che lo ripremi dentro come andresti a riattivare la leva sul... Che figata Ce li abbiamo sugli aerei i breaker invece dei fusibili Ma l'altra cosa che ho appena visto è che non sapevo Perché io ero qua che stavo guardando insieme a voi l'interfaccia qui Ma cosa vedo là di dietro? L'applicazione? Vuol dire che è veramente smart e connesso come mi immaginavo Non mi potevo mai immaginare che una batteria avesse l'applicazione Ma è geniale Cioè puoi vedere in tempo reale per stampare in 3D in garage ad esempio Dove non hai la corrente per qualche motivo O non vuoi allacciarti alla corrente condominiale o non lo so E questi? Un connettore da accendisigari a XT60 maschio E questo connettore che è palesemente per la ricarica Ma veramente non riesco a capire Ah ma l'XT60? Solar car input Non è per caricare la lipo dei droni Sono scemo io È per caricare la batteria Fate finto di niente di quello che ho detto Questo qua quindi è per caricare il nostro batterione dalla macchina Si attacco alle 12V ovviamente a motore acceso Perché se no la batteria al piombo della macchina la sdraiate E posso in macchina tenere in ricarica il batterione Questo cavo invece è per i pannelli solari Quindi abbiamo i connettori dei pannelli solari qua E l'XT60 che va nella batteria Vabbè piacevole Piacevole che sia un formato standard Quello della ricarica della batteria Uh maschio maschio da alimentatore Sapete con questo cosa ci faccio E in più l'ha presa per caricarlo con la 220 se siamo in casa Un po' di istruzioni su come connettere il pannello solare di terze parti Quindi i connettori dovrebbero essere Sì sono universali E io proprio per caso Perché voi non avete assolutamente visto il mio video scorso Per caso mi capita di avere due pannelli solari di terze parti Però vorrei vedere Secondo me c'è un pannello solare anche qua dentro Ma non ho finito il mio discorso di prima Sapete cosa ci faccio con questo jack maschio maschio della dimensione giusta Questo lo prendo Attacco una estremità qua dentro E l'altra estremità nella mia radio E così posso ascoltare le comunicazioni aeronautiche Mentre sono in mobilità E quindi farei una cosa del genere Ah che bella Posso tirare fuori questo qua Vedi Ecco flow solar panel Allora non di terze parti Uh ok Con questa texture Grigio google home Non so come chiamarlo Ci sta benissimo sui prodotti Per dirvi Il divano qua del mio studio Anche se in questo momento è un po' colonizzato È dello stesso colore Il mio zaino che uso tipo per tutto È dello stesso colore A prezzo A prezzo E a prezzo il silica gel Che serve per la stampa 3D Eeeh Con il logo No no Come design hanno veramente fatto Un incredibile lavoro Bene Allora Se dovessi recensire una batteria O fare delle cose fighe Con una batteria Come faremo in questo video Vi direi Bene La ricarico stanotte E ci vediamo a cose fatte Ma Ah e io c'ho un QR qua Per scaricare un'applicazione Ah tra l'altro hanno anche la batteria Talmente grande Che c'ha pure le ruote Uh e ti dai i consumi Di tutte le prese in tempo reale Adesso la vediamo Raga No è la svolta Ho appena visto una funzione Ok fatemela installare E trovare un carica iPhone In realtà potrei caricarlo Direttamente dall'Ecoflow Dimmi che carichi così senza problemi Bam Ok 100 watt L'iPhone non ne tira 100 Però ne tira tanti Perché quando carico l'iPhone Con il carica MacBook Pro E il carica MacBook Pro Fa 115 watt Si sente che l'iPhone Si carica molto più veloce Ah ma lo sappiamo in realtà C'è scritto qui 28 watt in questo momento Guardate che bella interfaccia Bella pulita Sfondo nero Scrite bianche Accent blu Uh guardate qua Vedi che c'è il simbolo Della USB-C Qua in basso Mi dice che c'è la USB-C Connessa E che quella da sola Perché non ci sono altri simboli Sta tirando 28 watt La batteria totale È al 30% Se continuo a caricare solo iPhone Mi dura 7 ore Bello Molto bene Eccolo qua Allora connetti Vabbè proviamo a fare più però Uh river river mini Max Max plus Delta Delta pro A quale rete deve connettersi Wow Perché a quel punto Dopo sta connesso Alla rete di casa In teoria adesso L'applicazione Mi ha chiesto esplicitamente Di connettermi a quella Determinata rete di casa Quindi mi indirizza Alla rete giusta Eccolo il mio Ecoflow Oh vabbè È una delle interfacce Più belle che abbiamo mai visto Perché è contemporaneamente Bella pulita Come piacciono a me le interfacce Ma è anche A quel che di Cyberpunk Futuristico Strano Con quell'esplosio Che non è neanche un esplosio È tipo Una roba in trasparenza Mi dà la temperatura Delle celle Mi dà che Questo 30% Se continuo a caricare Iphone Si dura 13 ore Posso da qua Accendere E spegnere La 220 Sono innamorato Di questa batteria Ho sentito un relay scattare E mi si è acceso Qua dietro il led Adesso non posso Stavo dicendo Non posso usare La fotocamera Perché sto registrando Lo schermo Come se avessi Un solo iphone Vabbè Comunque vedete Che si è accesa Questa qua Senza che io la toccassi Perché dall'applicazione Ho attivato la 220 Il grafico è a zero Però adesso io la rispengo Raga A parte che posso aggiornare I firmware Questo qua non è scontato Perché in una batteria Il firmware è molto importante Proprio per la gestione Per quanto si scarica Sali fermo Anche la tesla Aggiorna i firmware Dei propri battery controller Quelli a basso livello Proprio Ma ragazzi C'è le cose Le cose varie Livello di scarica Carica Io posso usarlo come UPS Questo Posso usarlo come Gruppo di continuità Gli dico Non andare mai Allo 0% Perché ti rovini Non star caricato Fino al 100% Se io ti tengo In alimentazione E quindi lui Anche se lo lascio Sotto carica Non sale mai Sopra il 60% E quindi la chimica Del litio Non ne risente E posso lasciarlo attaccato Lettualmente 24 ore al giorno Per mesi Per anni E mi fa da gruppo Di continuità Per un computer Non me l'aspettavo Non me l'aspettavo Ho detto vabbè Un'altra batteria Ci faccio un video carino Posso scegliere La potenza Che butta fuori Sulle prese 220 volt Quindi 200 watt O fino a 900 watt Quindi mi fa quasi Un kilowatt Va bene Posso scegliere Con quanta velocità Si ricarica Perché come sapete Per tutte le batterie A litio Più veloce la ricarichi Meno dura Questo lo sappiamo Anche con i droni Batteria da 2000 mAh Cosa vuol dire 0.5C Vuol dire 1000 mAh Cioè 0.5 Rispetto alla capacità E di solito Se la carichi a mezzo C La batteria dura di più Che non se la carichi A un C E se hai super fretta E la carichi a 2C E già comincia a soffrire Un po' addirittura Proprio il litio Dopo ti dura molto meno Quindi più lento Carichi le cose Più durano Anche l'iPhone in realtà Se lo carico con il carica Mac Si carica molto più veloce Dura un pelo di meno Time out schermo Ok Dopo quanto mi deve spegnere Lo schermino qui Dopo quanto deve spegnere La corrente qua E posso anche Digli di non spegnerla mai E quindi usarlo veramente Come gruppo di continui Sono Sono esterefatto Sono Che sfigata di prodotto Costa Chiaramente Costa Ma volete possedere 12 kg di litio Che vi permette Non tirare fuori Un kilowatt di potenza Il litio Come batteria prima Ha un costo Quindi Adesso io non voglio Nominare brand concorrenti Ma voi sapete Che io avevo un'altra batteria Perché vi ho fatto Un altro video Palesemente Lo sapete Penso che quell'altra Me la vedrete presto vendere Sul canale Telegram Mercatino di Overworld Perché questa qua Me la tengo Me la tengo per il futuro Per i posteri Non voglio dire La lascerò in bagagliaio Della macchina Perché Se poi me la rubano È un problema Però Per i viaggi lunghi Ad esempio Allora Mentre aggiornava il firmware Ho avuto modo Di approfondire Un altro paio di cose Ho avuto modo Di mandare questo messaggio Ad Alessandro Morolla Perché sapevo Che l'aveva testato anche lui E mi ha risposto così Sì Sì Infatti Lo uso praticamente Tutti i giorni Ed è Tutta un'altra cosa Ho avuto modo Di guardare i prezzi Sul sito E EcoFlow stessa Mi consigliava In Italia Il sito HobbyHobby.it Probabilmente Perché questo Spedisce dall'Italia E quindi senza Tocana Senza niente E lì Questo EcoFlow Delta Mini Costa 1099 Che secondo me È veramente È sotto la media È sotto la media di mercato Per un prodotto del genere Tra l'altro Non una batteria al litio Che ti tira 900 watt Perché Leggo Della scheda tecnica Che con la tecnologia X-Boost Cioè praticamente Probabilmente Per un po' di tempo Dura 1400 Cioè un kilowatt e mezzo Quasi E in più La stessa tecnologia X Però X-Stream Invece che X-Boost Me la decantava anche Morolla Nella seconda parte Di quel messaggio vocale Perché in poco più di un'ora e mezza Carichi l'80% Del batterione Quindi Ti svegli la mattina Che devi andare in montagna E dici Porca vacca Non l'ho caricato Boom Lo attacchi Fai colazione Ti fai la doccia Ti vesti Ora di uscire Ce l'hai praticamente pieno E alimenta alcuni dispositivi Questa è strana Alimenta alcuni dispositivi Fino a 1800 watt Perché questa cosa? Probabilmente Per una questione Di corrente alternata Perché sapete Che la corrente alternata È composta Da una parte attiva E da una parte reattiva E probabilmente A seconda del tipo Di dispositivo Magari se è un aspirapolvere È diverso Da se è una stampante 3D O se è un forno a microonde Per alcuni dispositivi Che magari hanno Una potenza reattiva Bassissima Quasi nulla Probabilmente riesce Ad arrivare fino A un kilowatt e otto Non lo so Sono mie speculazioni Però leggo che dice Alcuni dispositivi Fino a un kilowatt e otto No io sono innamorato Di questo prodotto Tra l'altro guardate Un'altra cosa Che mi è comparsa qua Guardate come si è accesa Una piccola icona Qua nell'angolo Che mi dice Che ho attivato Il battery trim Perché adesso Non l'ho più messa Da 0 al 60% Ma l'ho messa invece Da 10% minimo Cioè quando arriva Al 10% Dice di essere scarica Al 90% massimo Così mi durerà Di più negli anni Perché non si scarica Mai troppo Non si carica Mai troppo Così abito di lasciarla Dimenticata Carica al 100% Che comunque fa male Alle batterie Quando comprate Un qualsiasi dispositivo Da Amazon Infatti mica trovate La batteria al 100% La trovate tra il 30% e il 60% Perché? Perché gli elettroni Dentro le celle di litio Stanno più comodi E non si fanno male Bene ragazzi Ci spostiamo nella seconda parte Del video In cui stampo in 3D Allora Devo andare a Trento Per Natale Oggi è il 21 dicembre Tra tre giorni a Natale Vado a Trento Dai miei genitori Mi ricongiungo con la famiglia Voglio provare A stampare in 3D Dei gadget Dei regalini Un qualcosettino Insomma per loro Mentre vado a Trento Quindi Stamperò in 3D Per la prima volta In bagagliaio della macchina Mentre faccio ore di autostrada Vabbè Organizzo un po' di cose A sto punto lo ricarico Fino al 100% Però questa volta E ci vediamo Al 23 dicembre E siamo Al fatidico giorno Il 23 È più un casino Di quello che pensassi Primo perché sto partendo la sera E c'è molto più buio Come vedete Cioè in realtà sono le 4 Però è inverno ovviamente Pensavo di partire Verso le 11 di mattina Sarebbe stata tutta Diversa la luce Quindi mi sono procurato Una stampante Con la luce integrata Ora vedrete Il problema è che Tutto il resto Dei bagagli Devono starsene Il più possibile Fuori dalle balle L'ultima cosa Che vogliamo È che a metà stampa Le crolli addosso Uno scatolone Chiaramente Non potrò Guardarla o armenggiare Vi mostro Qual è la stampante? In realtà Parzialmente L'avete già vista Prima perché Avete appena visto Il timelapse Di me che la portavo giù È la Creality CR10 Smart La facciamo più semplice Perché uno dice Vabbè Ho la corrente in macchina Posso stampare in 3D E non proprio Non è così facile Tipo il filamento Dove lo mettiamo Allora La situazione È molto molto peggio Dal previsto Più che altro È veramente quasi buio E questo è il nostro EcoFlow E almeno Anche se non sono sicuro Che riusciremo a filmare La stampa 3D Visto il buio Almeno vi avrò fatto scoprire Un prodotto interessante Comunque Lui è acceso La 220 è accesa Il led sulle stampante È acceso Questa è la situazione Sono 28 watt Quella luce Ma non è un problema Potrebbe durare 15-16 ore Il nostro EcoFlow Se dovesse alimentare Solo quella Allora Preriscalda Il PLA Noi mettiamo Una Infa360 Go2 Qui Visto che è una Go2 Oltre il comandino Che mi tengo qui Una delle cinture di sicurezza Dei sedili posteriori Può tranquillamente Tenermi la bobina di filamento E dalle impostazioni Semplicemente Disattivo Il sensore di filamento Christmas 3 Play Buon lavoro EcoFlow E noi Possiamo partire Sembra di avere il bagagliaio aperto C'è troppa luce là dietro Allora Ho voluto un attimo Fermarmi in un parcheggio Per controllare due cose Però sembra Che ancora tutto vada molto bene Ok Quello che mi preoccupava Era il filamento Pesore cintura Ma quello che ha retto meglio Vi ho spostato la InstaGo Perché secondo me Avete un punto di vista Migliore da qui Secondo me lì Sulla testa di stampa Era bella Ma era troppo vicina Magari lo rispedimenterò In futuro In condizioni più ottimali Ma qua Ripartiamo Siamo quasi in autostrada Ultima curva Ingresso dell'autostrada Ragazzi Abbiamo vinto Da qua è tutta dritta Tutta liscia Che figata è Arriveremo a Trento Con un albero di Natale Stampato in 3D Ragazzi Con la fotocamera qua Della faccia Sicuramente Ci vediamo a Trento Allora Mi sono fermato in un autogrill Per rimettere a posto La InstaGo Ma Direi che procede Molto molto bene Una cosa che non ho controllato Però È quanto consuma Un centinaio di watt 130 90 110 120 watt Di media Un'altra Due ore di stampa Piene Potrei farle Nel dubbio Ne approfitto Per mettere in carica Anche il telefono Bene Direi che ripartiamo Ok Altra aria di sosta Siamo ormai in Trentino Ma La brutta notizia È che È sceso il buio Con una curva Dove essere crollato tutto Però la stampante Ancora funziona Vediamo con la torcia La stampante Sta stampando Ma allora perché Ha spento la luce Lei Non lo so La Insta scarica Ma l'albero di Natale È quasi finito Ragazzi Sono sul Brennero Quindi non posso distrarmi Quindi non posso accendere la luce Quindi palesemente Non mi vedrete in faccia Ma spero ci vediate In bagagliaio Dove c'è abbondante luce Poco meno di 40 minuti Rimanenti a Trento E abbiamo l'albero di Natale Completo Potevo addirittura Farlo più grande Con quello che mi poteva durare La batteria di EcoFlow Con connessa a una stampante 3D Così grande Perché quella stampante Che ha un piatto gigantesco Comunque serve Parecchia potenza in più Per mantenere Tutto quella superficie In temperatura Però nonostante La stampante grande E dai consumi elevati Avremmo potuto stampare Tre alberi di Natale Interi Così Se fosse stato solo un problema di energia E invece avevo fatto il conto Che sarebbe durata Tre ore La stampa Poi con un po' di coda Un po' di ritardi Le due soste E il fatto che l'ho messa A un certo punto Al 120% di velocità Ci sta che abbia finito Prima lei Ci vediamo a Trento Ci vediamo con la luce Ma che top E piatto in pay Vuol dire che Questo Yes È subito appoggiato Chi c'era Quando facevo i video Con questa inquadratura C'erano gli armadi aperti Però è un vero Original Del canale Allora Direi che il nostro albero Ce l'abbiamo fino alla Più piccola sommità Ovviamente Quella di stampare in 3D In macchina Era un po' una scemata Non penso che nessuno Lo sanno di mente Si metterebbe a fare tre ore Di stampa 3D Mentre sta in macchina Però era giusto Per provare Il nostro EcoFlow Ed era un 6 So darci un po' un obiettivo In questo video Ovviamente Le cose per le quali è utile Sono probabilmente Molto più pratiche Che non stampare Un alberetto di Natale Cioè portare E avere la corrente In tutti quei posti Dove la corrente Non c'è In un campo Dove devi lavorare Magari ti servono degli attrezzi O banalmente Avere le luce Caricare batterie E cose Con caricatori Che però usano la 220 Quindi ti tieni Questo qua in macchina Quando vai a volare con i droni Ti carichi tutte le batterie Di tutti i Mavic Che vuoi Ti cacci il saldatore Se sei con i droni FPV Per fare le modifiche al volo Più di un caricalipo Ma per questo video Direi che è tutto Se il video vi è piaciuto Appena sotto Trovate un pollice in su Da mettere Se l'EcoFrow vi è piaciuto Appena sotto Trovate la descrizione Con il link Per recuperarlo Sia dal sito italiano Che vi dicevo Sia volendo Vi lascio il link Anche a EcoFrow.com Perché ho visto Che i prezzi Erano più bassi Non ho guardato Le spedizioni però Vabbè Dateci un'occhiata Perché il prodotto Secondo me È tanta tanta roba Lo userò tanto Per questo video è tutto Ciao a tutti Ehm Ciao a tutti Ciao a tutti